Ho visto in Simone la persona che mi avrebbe potuto far fare questo cambiamento, sia personale che professionale. Io sono Fabio Dramignan, ho preso il patentino d'agente immobiliare nel 1996 a Milano, è stata la mia prima professione, il mio primo lavoro e l'ho fatto per quattro anni in città e dal 2006 invece mi occupo di mediazione immobiliare in Valle d'Aosta, è una regione che amo e quindi fare l'agente immobiliare lì è fantastico. Allora, ho conosciuto Simone Rossi online nel febbraio del 2023 e poi ho avuto il piacere di ascoltarlo dal vivo sempre nello stesso mese e quindi diciamo che è quasi un annetto insomma che lo conosco. Ma allora, a me ha spinto il voler conoscere e iniziare un percorso insieme a Simone Rossi la necessità che avevo di trovare un nuovo modo di fare l'agente immobiliare e perché mi ero reso conto che ero arrivato a un punto di stallo, le cose andavano benino, viva Chiavo, però avevo necessità di fare un salto sia a livello mentale per cercare nuovi stimoli sia anche a livello di produzione e quindi ho visto in Simone la persona che mi avrebbe potuto far fare questo cambiamento, sia personale che professionale. Allora, prima di conoscere Simone Rossi, Fabio Gramignani era un agente immobiliare che faceva diciamo del suo fiore all'occhiello l'esperienza, insomma gli anni di marciapiede, passami la parola, e quindi si sentiva quasi arrivato. Però come persona era sempre una persona che si sentiva inconclusa per anche un passato fatto di insuccessi che ci stanno per carità nella vita, ma che continuavano a condizionare il mio potenziale e quindi continuavano a condizionare un futuro migliore, che desideravo ma che non vedevo realizzabile perché avevo insomma ancora sempre lo zaino pieno di dei fallimenti passati, delle brutte cose e quindi questo mi ha spinto ancora di più ad approcciarmi a Simone per soprattutto poter avere un nuovo modo di pensare alla mia professione e anche al mio modo di programmare la vita, insomma. Allora, io dopo aver conosciuto Simone Rossi mi sento prima di tutto una persona più felice. Mi sento una persona più felice perché quello che prima mi bloccava, ovvero gli errori fatti nel passato e i fallimenti magari anche avuti, prima mi condizionavano, adesso invece si sono tramutati in uno strumento stimolante a fare meglio e quindi Simone mi ha aiutato a sbloccare quelle che erano insomma le negatività e a trasformarle in linfa per nutrire un progetto importante. In questo percorso fatto con Simone quello che mi ha fatto svoltare è stato essere convinto di aver sbagliato un compito che mi aveva dato, ovvero quello di creare l'obiettivo top producer e quindi mi aveva bloccato, ho detto a lei ci siamo, ho percorso nuovamente una strada sbagliata e adesso dovrò chissà cosa potrò fare e invece Simone mi ha fermato, mi ha detto che non c'era nessun problema che avrei dovuto riapprocciarmi allo stesso progetto pensando in maniera diversa e permettendomi di sognare e quando alla fine ho scoperto che ero ancora in grado di sognare allora poi l'obiettivo top producer mi si è palesato immediatamente davanti e sono cambiato anche come persona e se me lo dice mia moglie che mi vive accanto a H24 vuol dire che insomma mi sa che lo percepiscono un po' tutti. Allora adesso da quando ho iniziato il percorso con Simone sto ottenendo degli ottimi risultati e questi risultati vanno di pari passo sia nella sfera lavorativa che in quella personale gli ottimi risultati nella sfera lavorativa ovviamente sono quelli di un aumento della produzione e una sicurezza nel prendere degli incarichi sapendo che sicuramente verranno venduti e questa sicurezza la trasmetto ai miei clienti e di conseguenza il gioco è fatto e a livello personale ho raggiunto l'obiettivo di dedicare me stesso e il mio tempo alle persone che lo meritano e quindi ho iniziato anche a fare un po' una scelta di quelle che sono le persone che ho il piacere di frequentare. Allora le informazioni che trasmette Simone e che per me sono un metodo quindi per me il metodo che trasmette Simone è applicabile da tutti quelli che fanno la nostra professione da tutti gli agenti immobiliari, dagli junior ovvero da quelli che magari hanno appena iniziato a fare ricerca e a suonare i campanelli ai senior che hanno anni e anni di esperienza e pensano insomma che ormai possono vivere anche del passaparola quindi diciamo che è lineare su tutto quelle che sono i player del mercato immobiliare credo che sia, anzi sono sicuro che sia applicabile in ogni zona perché è un metodo che insomma va a dare delle indicazioni da applicare e che sono indipendenti dal fatto che tu operi in una città o in un piccolo paese di provincia il metodo è lo stesso perché Simone ti insegna a parlare con le persone non a parlare con le case di Milano piuttosto che con le case di Borgo San Dalmazio di conseguenza insegnandoti ad approcciare i proprietari in una certa maniera insomma i proprietari ci sono dappertutto e quindi tu impari un linguaggio per colloquiare con i proprietari quindi puoi farlo ovunque certo che come tutti i metodi devi avere la voglia di applicarlo e quindi lui ti dà insomma la patente per guidare una Ferrari e tu ci devi mettere la benzina e la voglia insomma di guidare, di stare al volante allora io ho contestualizzato il metodo di acquisizione di Simone all'interno di tutta la mia piccola regione semplicemente facendolo quindi non ho trovato delle grosse difficoltà ho semplicemente mi sono detto beh allora Simone acquisisce così il suo metodo di acquisire porta quei risultati io voglio fare così e di conseguenza ho iniziato a fare quello che mi ha insegnato e l'ho replicato nella mia regione l'ho semplicemente fatto non ho dovuto inventarmi nulla allora adesso che ho iniziato a guidare questa Ferrari e quindi adesso che ho iniziato ad utilizzare questo metodo ho davanti a me un percorso che voglio intraprendere professionalmente e che di parallelo è un percorso che mi porterà anche dagli obiettivi personali che quindi coinvolgeranno me e la mia famiglia e adesso voglio continuare a diventare sempre più performante nell'applicazione di questo metodo perché sì è vero che ho cominciato a guidare la Ferrari ma non sono ancora in grado proprio di portarla al massimo della resa come un pilota e quindi l'obiettivo è di continuare se posso e se avrò la fortuna sempre con la presenza di Simone al mio fianco per arrivare insomma a diventare l'agente immobiliare più conosciuto nella mia regione entro i prossimi cinque anni allora se ci fosse qui seduto accanto a me o di fronte un giovane agente immobiliare o anche non più giovane che comunque come ho fatto io ha deciso di cercare un modo nuovo di lavorare gli direi abbandonati cioè lasciati andare ascolta non aver paura di quello che senti non aver paura di non poterlo replicare e stai tranquillo perché Simone Rossi come formatore è un formatore presente Simone per me c'è sempre questo vuol dire che lui trasmette la sua presenza certo con le call che facciamo direttamente con lui trasmette la sua presenza con i corsi in presenza ma è capace di essere presente tramite i suoi splendidi collaboratori quindi non sei mai solo io ho scoperto lavoro da solo in agenzia ho la segretaria e ho un collaboratore e da quando ho approcciato strategie immobiliari di Simone Rossi è come se avessi nella mia agenzia un consulente in più seduto accanto a me che è quello che controlla dove stiamo andando e controlla i numeri e ci dice attraverso i numeri che facciamo come lo stiamo facendo e se lo stiamo facendo bene e se lo possiamo migliorare quindi io consiglio semplicemente di lasciarsi andare e essere aperti a ricevere tutte le informazioni che Simone Rossi può dare grazie a tutti